we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e anche oggi appuntamento imperdibile con il nuovo fortbite si trova ragazzi dentro la gelateria quella che ovviamente sapete essere nel bioma del deserto vicino al bancone ragazzi si trova proprio qua eccolo qua il fortbite e si utilizza ragazzi l'emote evviva una volta che l'avrete utilizzata il fortbite sarà disponibile lo potrete prendere e quindi portarvelo a casa io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto ciao non mi parte l'altro non mi parte l'altro non mi parte l'altro non mi parte l'altro non mi parte ma perché vabbè ciao